Arriva in aula la seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Il provvedimento viene approvato a maggioranza, sì, DPD, Italia Viva, voto contrario dei gruppi di opposizione presenti al voto, Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto. Ad illustrare la variazione, assieme agli interventi normativi collegati all'integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2023, il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. Si tratta di uno stanziamento aggiuntivo di quasi 40 milioni di euro sull'annualità 2023. Le principali voci di spesa della variazione riguardano interventi di bonifica. Poi numerosi altri provvedimenti che, dice Bugliani, guardano alla Toscana diffusa. Da una parte, 15 milioni di euro sono quelli che vengono destinati dalla Regione Toscana per l'esercizio in via sostitutiva rispetto ai responsabili dell'intervento che deve essere realizzato sulla strada regionale 429, quella interessata dall'inchiesta del CHEU. Quindi inizia un'importante attività di bonifica grazie a questo imponente stanziamento di risorse da parte della Regione, così come vengono rimodulate le risorse per 12 milioni di euro, che sono quelle relative alla bonifica dell'area SIN-SIR della provincia di Massacarrara, per consentire l'indizione della gara d'appalto integrato da parte di Sogesib. Dall'altra parte, però, sul fronte della spesa corrente ci sono tutta una serie di interventi importanti nel settore della cultura che vanno dalla valorizzazione della rete museale a quella delle reti documentarie fino ad arrivare anche a interventi più puntuali, come ad esempio i 2 milioni che vengono destinati al Teatro della Pergola o il milione e mezzo che viene destinato al Teatro Manzoni di Pistoia. Ci sono poi tutta una serie di interventi puntuali che riguardano la rete viaria, ad esempio la strada provinciale 4 nella provincia di Grosseto, e tutta una serie di misure che vanno a sostegno degli enti locali, quindi in particolar modo dei comuni, per la realizzazione o il completamento di valori collegati a palestre, a scuole o ancora luoghi della cultura. Critiche dalla centrodestra per Fratelli d'Italia, due le criticità della manovra. La prima, il fatto che l'attrazione di nuovi fondi di investimento in regione toscana è un qualcosa che non è preso in considerazione da questa giunta. Documenti economici e finanziari di questa giunta, una pagina e mezzo dedicata. Turismo e commercio, non c'è una parola, una, spesa per il turismo congressuale. Nei giorni in cui uno degli enti principali, degli enti fieristici principali della Toscana, Firenze Fiera, partecipato alla regione toscana, finisce su tutte le prime pagine dei giornali con un buco di bilancio da 26 milioni, con qualcuno che dice che è un ente ormai tecnicamente morto, tecnicamente fallito, con i soci che si rifiutano di mettere nuovo capitale in azienda, la regione toscana non spende una parola sul turismo congressuale. Quindi una giunta che governa una regione, che governa la regione che cresce meno in Italia, dove negli ultimi dieci anni abbiamo perso il 18% di imprenditoria giovanile, non spende una parola né per il turismo congressuale, né per il rilancio del commercio, né per l'attrattività in Toscana di fondi di investimento. È una giunta senza idee. Lo stesso gruppo pone l'accento sui soldi alle società partecipate, ad iniziare da Firenze Fiere. Quindi abbiamo raccomandato con ordine del giorno, che speriamo la maggioranza voglia votare, che la regione metta questa ulteriore fish solo dopo aver verificato bene la situazione economico-patrimoniale della società. Per quanto riguarda Sici Toscana, che è una società finanziaria, dovrebbe entrare nell'orbita di sviluppo toscana, anche in questo caso si lega all'operazione Fidi, cioè alla finanziaria della regione che dovrebbe essere dismessa a favore di sviluppo toscana. In realtà i tempi di questa operazione non sono rispettati e ci risultano problemi sulla quantificazione economica che la regione dovrebbe incassare dalla vendita delle azioni. Infine, l'ultima, Toscana Strade. Prima ancora che parta ci costa già 5 milioni, e bene che i cittadini toscani lo sappiano, 2 milioni di presunto capitale sociale e 3 milioni per le prime spese. In realtà l'operazione è stata fatta di mandare la delibera alla Corte dei Conti, al Garante per la concorrenza del mercato. Secondo noi non va bene perché in realtà è competente il Consiglio regionale, ma prima ancora che il Consiglio ne abbia discusso appunto si spendono già 5 milioni. Tema toccato anche dalla Lega, una variazione con poca chiarezza, dice. Un DEF che non tocca il tema di Toscana Strade, un tema molto dibattuto negli ultimi mesi, che invece si trova all'interno di un piano regionale di sviluppo, che andremo poi a discutere nella prossima seduta di Consiglio regionale. Non è ancora chiaro la finalità e la fine che farà fedi Toscana, perché la regione toscana intende acquisire il 100% delle quote di Sici, però ci risulta che ci sia un'altra regione copartecipe delle quote, che è la regione Umbria, che non sia in questo momento intenzionata a vendere. Non ci sono chiarezze per quanto riguarda appunto tutto quello che è il pacchetto delle partecipate, della progettazione e del futuro di una serie di attività che avranno appunto ripercussioni importanti su tutta la cittadinanza toscana. Però voglio anche evidenziare, da ex Presidente della Commissione di inchiesta sulla criminalità organizzata, appunto il CHEU, che finalmente è arrivato una variazione di bilancio da 15 milioni, che andrà appunto perlomeno a tutelare la salute ambientale e la salute e l'ambiente di alcuni territori, che sono quelli della 429, e dei due siti di proprietà della ditta Le Rose. Quindi almeno su quello sembrerebbe iniziare un percorso di piano di caratterizzazione e di opere di bonifica che noi chiedevamo da circa un anno e mezzo. Per il gruppo misto gli interventi sono disomogenei. Non mi spiego ancora come mai non si sia stato in grado di trovare delle risorse per un asilo nido che è nel piccolissimo comune di Londra, pur parlando di aree interne di Toscana diffusa, che è un asilo nido al quale mancano circa 200 mila euro per essere messo a norma sull'antisismica. Così come non mi spiego come su un'opera importante, come quello che è il secondo ponte sul Resco nella zona del comune di Reggello, non si sia in grado, non si sia voluto in qualche modo mettere a disposizione delle risorse ulteriori per sbloccare quel progetto. Sono tutti interventi che riguardano le comunità, che riguardano i comuni, sui quali i cittadini pongono l'attenzione, perché riguardano la vivibilità di quei comuni. Oggi purtroppo si danno ancora risposta a macchia di leopardo, ma non in modo organico. Giudizio negativo anche dal Movimento 5 Stelle. Manca la strategia. Non abbia appunto visione, non abbia una programmazione, non abbia monitoraggio di quello che è l'impiego delle risorse. Il problema più grande che stanno affrontando le famiglie adesso è il caro mutui, il caro affitti, tutte le questioni che riguardano l'energia, l'aumento dei prezzi e l'inflazione. La Regione Toscana sia per le famiglie che per le imprese non sta prevedendo niente, soltanto una riorganizzazione delle partecipate, perché il riordino non se ne può parlare, che prevederà dei piedaggi in futuro sulla FIPILI, che prevederà che FIDI Toscana venga smantellata e adesso nessuno possa dare il sostegno alle imprese e al microcredito che dava precedentemente, e altre iniziative che però non sono neanche salvifiche per quegli enti, penso alle termine di Montecatini, che invece le attendono da tempo. Scaramelli, nell'annunciare il voto favorevole, sottolinea l'incremento delle risorse senza alcun aumento di tassazione. Non ci sono aumenti di tasse, ci sono maggiori risorse, invece soprattutto per gli impianti sportivi, per lo sviluppo, per il sociale e per la sanità, e soprattutto molti sostegni a favore di vari comuni della Toscana rispetto a degli interventi che da più volte avevamo sollecitato. Quindi una variazione di bilancio positiva che trova il nostro voto favorevole e un equilibrio finanziario che si consolida in un anno che non era scontato, le difficoltà a inizio anno erano notevoli, tutti si ricorderanno la difficoltà nel costruire il bilancio di previsione, il tempo ci sta dando ragione rispetto al fatto che non serviva un incremento delle tasse, ma che si potevano gestire in equilibrio i conti della finanza regionale. Dalle bonifiche per le emergenze ambientali a quelle per permettere nuovi insediamenti industriali, sino alla valorizzazione della Toscana diffusa in campo culturale. Gianni sottolinea la visione che sta alla base dei provvedimenti adottati. Una Toscana che sta dando in questo momento, l'ha rivelato bene l'IRPET, un senso di prospettiva di sviluppo superiore a quello che avviene in Italia e che attraverso il supporto della regione trova sicuramente una speranza per il futuro. Il Presidente poi tocca il tema di Toscana Strade e la situazione della Firenze-Pisa-Livorno. Prende consistenza Toscana Strade, quanto ne è necessario, lo vediamo in questi giorni, la gestione della città metropolitana è improvvisamente ristretta a una corsia perché c'erano da fare dei lavori, ma i lavori si programmano e poi quando si agisce i cantieri devono esserci. Siamo stati costretti a dare i giorni di proroga. Sono cose che io non me la prendo individualmente con nessuno. Sono le procedure che richiedono delle aziende specifiche composte da professionalità e finalità ad agire non possono essere gestite da enti locali come in questo caso una città metropolitana. I lavori su una strada di grande percorrenza e delicatezza come la FIPILI. Almeno quando abbiamo la società specifica lavorerà di notte, lavorerà facendo una programmazione di lavori, non dovendo sempre rincorrere, magari chiudendo una carreggiata, ma i lavori partono un mese dopo. Tre miliardi in più, quelli che il Ministro della Sanità punta a trovare per finanziare i servizi regionali. I governatori lo chiedono all'unisono, sottolinea il Presidente Eugenio Gianni a margine del Consiglio regionale. Io penso sia all'inizio, se dovessimo vedere quanto è necessario per la sanità, oggi ci sono 126 miliardi nel Fondo Sanitario Nazionale, e la cifra dovrebbe essere di circa 150 miliardi per portarci al 7% del prodotto interno lordo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto deve essere la percentuale giusta. Se invece che quei 20-25 miliardi necessari ne arrivano 3 o 4, comunque tutto fa, è utile che il Ministro abbia in qualche modo raccolto il grido d'allarme della riunione che facciamo giovedì scorso in cui i governatori delle regioni all'unisono, centro-destra, centro-sinistra, all'unisono hanno detto che se vogliamo un sistema sanitario di cui essere orgogliosi, pubblico e universalistico, che non fa differenze fra il povero e il ricco, le risorse lo Stato ce le deve mettere. Mi sembra sia il segnale che il Ministro abbia raccolto. Questo governo, ribatte il consigliere di Fratelli d'Italia, Petrucci, ha aumentato il Fondo Nazionale per la Sanità. Nel 2019 pre-Covid era di 114,5 miliardi di euro l'anno. Nel 2023 è di 126 miliardi l'anno. Nel 2024 verrà finanziato di 128 miliardi l'anno. Significa che rispetto al pre-Covid il governo Meloni mette nella sanità nazionale 14 miliardi di euro in più. C'è però un tema, sottolinea Petrucci, l'uso delle risorse aggiuntive. Quindi noi chiediamo a Gianni, a Bezzini, alla maggioranza, quando chiedete più soldi, per cosa li chiedete? Perché se li chiedete per aumentare gli stipendi dei medici, degli infermieri, degli ossa, dei pronto soccorsi, noi ci mettiamo la firma sotto. Se gli chiedete per aumentare i servizi territoriali e domiciliari per evitare che le persone vadano a ricoverarsi in ospedale quando potrebbero essere curate a casa, noi ci mettiamo la firma sotto. Ma se quei soldi dovessero servire per aumentare i posti di potere che avete creato in questi anni, per creare gli oltre 2.000 primari che ci sono in Toscana, per creare un ulteriore cattedra, un ulteriore centro di potere all'interno della sanità toscana, ecco noi rispetto a questo siamo contrari perché noi riteniamo che non sia sufficiente chiedere più soldi, ma sia necessario cambiare i modelli organizzativi della sanità toscana. Arriva in aula il bilancio previsionale 2023-2025 dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Ad illustrare l'atto la Presidente della Commissione Istruzione e Cultura, Cristina Giacchi. Le borse di studio, gli alloggi e poi i costi aumentati per l'inflazione al centro della relazione di presentazione dell'atto. L'azienda che impegna un bilancio di 120 milioni e ha competenze ben definite dallo Stato che gliele delega. Spesso c'è un equivoco e si pensa che il diritto allo studio riguardi tutti gli studenti presenti sul nostro territorio. In realtà questo avviene indirettamente solo per la gestione delle menze. Mentre la competenza principale dell'azienda per il diritto allo studio riguarda gli studenti meritevoli con fragilità di reddito. Da questo punto di vista devo dire che la Toscana si conferma prima in Italia perché corrisponde tutte le borse di studio richieste dagli studenti. Cioè tutti gli aventi diritto in Toscana trovano accoglienza nelle borse di studio e quindi nessuno rimane escluso. E questo è un grande risultato che nessun'altra regione o poche altre regioni raggiungono e non sempre. Noi invece stabilmente da sempre corrispondiamo alle attese degli studenti. Il tema delicatissimo è il tema degli alloggi. Molti degli alloggi del diritto allo studio toscano che sono circa 4.800 sono al momento impediti dalla necessità di adeguamenti antincendio. Abbiamo sollecitato questi lavori e l'azienda è impegnatissima perché una volta sistemate queste residenze davvero non avremo bisogno di altro e gli alloggi del diritto allo studio saranno sufficienti a coprire il fabbisogno. Oltre ai 4.800 posti abbiamo 4.200 contributi a falloggio che vengono erogati dall'azienda. Un gravame di questi anni è derivato dall'aumento dell'inflazione che ha portato ad un aumento dei servizi di circa 4 milioni. Per questo motivo abbiamo accompagnato l'approvazione del bilancio con un ordine del giorno che consenta che impegni l'azienda ha raggiunto a reintegrare i fondi necessari per coprire lo stock dei servizi anche per il 2024 e il 2025 perché una delle strategie finanziarie messe in campo è stata quella di anticipare le risorse al 2023. Dopo la discussione il bilancio di previsione viene approvato a maggioranza 22 voti a favore 1 astenuto e 10 contrari tra questi il gruppo della Lega. Direi minor numero di posti letto e costo dei posti letto fuori controllo oltre anche alla diminuzione dei pasti diretti. Queste sono alcune delle criticità che sono state anche evidenziate dagli uffici della Giunta. Quindi noi che diciamo? Diciamo che bisogna in qualche modo diminuire il costo del personaggio cioè diminuire per lo meno che non si alzi più il costo del personale poi mettere le residenze che stanno diciamo per essere ristrutturate che i lavori terminino nel più breve tempo possibile così il numero dei posti letto aumenta e c'è per tutti quindi anche i costi diminuiscono e poi spendono troppo per quanto riguarda va bene l'energia e quello è stato un periodo che forse ora si risolve però per la portineria e le pulizie devono trovare il modo di spendere meno probabilmente dovranno fare una gestione diversa e su questo spero che mi diano ascolto il bilancio noi abbiamo votato contro e abbiamo anche presentato una proposta di risoluzione affinché viste tutte le criticità i controlli sui lavori che porta avanti Arzu siano fatti più frequentemente Italia Viva vota a favore risorse che vengono messe a disposizione dal sistema toscano nelle confronti di tutti quegli studenti che hanno un merito per poter avere degli contributi alla loro attività nello stesso tempo serve sostenere coloro che non riescono con le proprie risorse finanziarie ovviamente a fare gli studi universitari e nel contempo cercare di sostenere anche le strutture e gli impianti del sistema universitario rispetto agli alloggi e non solo rispetto anche al sistema delle menze quindi un bilancio che si approva è un bilancio che darà sostegno agli investimenti non soltanto infrastrutturali ma soprattutto anche per tutti quegli interventi che devono essere sistemati a livello locale Oggi abbiamo affrontato due questioni fondamentali per la vita dei cittadini la prima è quella della qualità dell'aria come noi possiamo offrire alle cittadine e ai cittadini dei nostri territori un livello di vita migliore quali sono gli investimenti da fare qual è la direzione da intraprendere e soprattutto come noi dobbiamo investire in tecnologie che consentono di ridurre le emissioni dalla Toscana arrivano spunti per l'Unione Europea sulla qualità dell'aria lo ha ribadito il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo a margine dei lavori della plenaria del Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles Mazzeo ha parlato di svolta green e di come questa non debba pesare sui cittadini dare risposte affinché nascano imprese green non le imprese che inquinano tanto come sta avvenendo fino ad ora tutto questo deve avvenire non ricadendo sulle spalle dei cittadini con costi che devono sostenere soprattutto le persone che soffrono di più oggi entrando in aula ho avuto modo di passare nella galleria dei presidenti e di vedere l'immagine di David Sassoli un grande uomo delle istituzioni che ci ha mandato un messaggio semplice avvicinare con le sue parole il modo di lavorare l'Europa ai cittadini e che è riuscito a lavorare nella direzione di cambiare un po' la cultura anche all'interno del Parlamento Europeo e di portare tutti nella riduzione di investimenti per ridurre le disuguaglianze tutto questo deve tenersi insieme tutta questa è la nostra idea di Europa Grazie a tutti Grazie per la visione!